Mi chiedo sempre, tutte le volte che Don Ernesto fa l'introduzione, la preghiera, io qui che sto a fare, sinceramente? Perché, ad esempio, adesso, introducendoci all'incontro, ha detto tutto. Non solo per questa sera, ma di quello che stiamo cercando di dire, di quello che poi soprattutto vorremmo dire. E soprattutto ha detto tutto della realtà credente. Ed è vero come quando poi tu dici tutto in una frase o in un incontro, poi è la realtà che poi deve essere sviluppata durante tutta la vita. Don Ernesto faceva riferimento all'episodio della prima lettura di oggi, che tra l'altro avevo proprio, pure io ho segnato, avevo portato proprio questo riferimento. Perché è qualcosa di particolare, come sempre la parola di Dio è sempre particolare. Purtroppo il guaio nostro, sapete qual è, che siamo sempre troppo abituati. Perché, provate a pensare, no? Se, che ne so, un attore famoso, un personaggio famoso, pensiamo al Papa, diciamo qualcosa più di casa nostra, quindi il Papa, no? Allora Don Ernesto diciamo, giovedì prossimo, martedì prossimo il Papa verrà a rivolgerci la sua parola. Non lo dovevo dire? No, eh. Il Papa verrà a rivolgerci la sua parola. Io, degno il Papa, per ascoltare il Papa, vengo all'incontro. Guardate, noi, ogni domenica, ogni celebrazione, ci parla il Signore. Eppure, fateci caso, non dico siamo indifferenti, però può succedere che può essere relativo il fatto che ci parli il Signore. Dice il profeta Sofonia, rugisce il leone come non tremare. Immaginatevi, il leone non ruga, e noi tremiamo. Parla a Dio come non profetare. Profetare. Allora, penso che a livello di fede, è una realtà che noi dovremmo riscoprire, il fatto di essere destinatari della parola di Dio. Però attenzione, perché prima di essere consapevoli che sono destinatari o che il Signore mi dice qualcosa, perché noi, il Signore ci parla e lo sappiamo, e quindi però andiamo a vedere il contenuto della parola. Però prima del fatto che c'è qualcosa che Lui vuole dirci, il primo atto che noi dobbiamo cogliere è il fatto che Lui parla. Questo è meraviglioso e stupendo. Cioè Dio parla. Così inizia la Genesi, se vi ricordate, il primo libro della Bibbia. Dio disse. E noi subito andiamo a vedere che cosa ha detto. No, un momento, prima di andare a vedere cosa ha detto, fermiamoci sul fatto che Lui parla. non è un Dio muto, ma è un Dio che parla. E il parlare è l'unica realtà di quella che noi abbiamo a disposizione per questa composizione qui corporale, quella che ci permette di entrare in relazione l'uno con l'altro. e come abbiamo detto, abbiamo visto e vogliamo ancora vedere, il parlare affinché sia effettivo è necessario, dall'altro lato, un'altra dimensione, quello dell'ascolto. perché adesso io sto parlando, voi state ascoltando, e mi auguro che non state sentendo. Perché noi, mentre ascoltiamo, sentiamo anche, ad esempio, ci ascoltiamo, però sentiamo anche i rumori che stanno qua fuori. Vedete, il sentire è automatico, il sentire. Il sentire non ci chiede niente il sentire. Ascoltare invece dovrebbe essere intenzionale. Cioè io mi pongo in atteggiamento di ascolto. Non subisco l'ascolto, subisco i suoni. La scheda è che si sposta, il microfono è che può fare rumore, la macchina è là fuori. Subisco questi rumori e quindi li sento. Ma l'ascolto invece, io dovrei essere coinvolto col corpo, con il cuore, con la mente, con gli occhi. Voi immaginatevi, no? Mentre io vi parlo, sto parlando a voi però, guardo di là, no? Allora sapete, lo dobbiamo, i signori ci amano, ma a chi stia parlando? Perché il parlare e l'ascolto implica anche occhi negli occhi. E non è che forse l'ascolto e il parlare è quella realtà che più si avvicina alla forma più alta d'amore. Qualcuno direbbe che ascoltare è sinonimo di amare. L'abbiamo visto, ricordate nel Vangelo la settimana scorsa, i due Die e Maus, questi due, e questo Gesù che si avvicina a loro, e la prima cosa chiede, di cosa state parlando? Quindi la prima realtà che Gesù chiede è proprio, il primo atteggiamento di Gesù è proprio quello di ascoltare. E se vi ricordate, nei Vangeli di Resurrezione, tutte le volte che Gesù si mostra, generalmente chiede sempre questo, come a Maria di Magdalena nel giardino, perché piangi? E diciamo la volta scorsa, anche se noi forse non ce ne accorgiamo, non ce ne rendiamo conto, perché le situazioni della vita, alcune volte dell'utente o quelle sono quelle che sono, potremmo non renderci conto che Lui sta camminando con noi. Però diciamo anche che molte volte non è importante che io me ne renda conto, però l'importante è che so che Lui c'è. La fede non è costringere Dio a rendersi presente, perché noi potremmo pensare questo, che io ho fede, quindi ho fede, significa che costringo Dio a farsi presente, perché poi Dio deve farsi presente secondo le mie categorie. È nel modo, nella modalità, nella forma in cui io poi voglio che si faccia presente. E siccome Lui a questa mia idea non corrisponderà mai, perché sarebbe un idolo a quel punto. Ecco perché molte volte allora io e Lui non ci troviamo. Quindi la capacità, la fede è questa, sapere che Lui è e si fa presente come Lui vuole farsi presente. Direbbe la teologia, usa un'espressione che in italiano purtroppo non riesce a tradurla, però è così semplice, se non arriva cerco di spiegarla, di tradurlo meglio. La teologia dice così, che Dio si presenta sempre sub, contraria, specie. Cioè tu te lo immagini in un modo, Lui si presenta sempre in modo contrario alla specie come tu lo immagineresti. Allora noi immaginiamo Dio che è il potente e Lui si presenta contrario alla tua idea di potenza. Tu te lo immagini forte e Lui si presenta contrario alla tua idea di forza. E allora capite quel bambino che noi vediamo nella grotta lì a Betlemme. E c'è bisogno, anche lì vedete, per capire, c'è bisogno che qualcuno parli lì. E l'altro ascolta i pastori. Andate, troverete un bambino avvolti in fascia in una manciatoia. Questo per voi è il segno. Però Lui me lo chiama, è il Signore. Però questo è il segno, avvolti in una manciatoia. Chiaramente se tu dici, troverete il Signore, allora tu immagini il Signore, il potente. Poi arrivi lì e non ti trovi il potente, ti trovi un bambino in una manciatoia. Il Signore, il potente, il segno, avvolti in una manciatoia. Allora il crocifisso e il centurione che non apparteneva al popolo eletto potranno affermare quest'uomo veramente era figlio di Dio. Certo, noi questo dobbiamo chiedercelo perché qui è l'intelligenza della nostra fede. Che cosa ha visto il centurione? Che cosa non hanno visto gli altri? Perché è il centurione e gli altri, anche gli altri soldati che l'hanno crocifisso hanno visto fisicamente ciò che fisicamente vedeva il centurione. E allora, come dicevamo anche la volta scorsa, la fede non è che all'improvviso ti fa apparire una situazione diversa, ti fa apparire un amore diverso, ti fa apparire una vita diversa. No, la fede ti fa capire che la vita nuova è in questa vita che noi già stiamo vivendo. La realtà nuova non è da avvenire, la realtà nuova è già questa in questa vita che noi in questo momento stiamo vivendo. Quando noi diciamo io credo, e lo diciamo ogni domenica, nella professione di fede, anche qui facciamoci caso, le parole, si diceva una volta che le parole sono come delle pietre. Noi dovremmo fare attenzione a quando usiamo le parole. Non dovremmo dire le parole tanto per dirle. Noi lì diciamo professione di fede. Io quando dico che professione fai, io sono ingegnere, sono avvocato, sono prete, sono medico, capite? È la mia professione. Lì noi facciamo professione di fede. E nella professione di fede noi diciamo la verità che credo che il Signore è risorto dai morti. Lo diciamo da qui nasce la predicazione. La predicazione non nasce dai miracoli che ha fatto Gesù. Quando gli apostoli iniziano ad annunciare, non iniziano ad annunciare dicendo, sapete, Gesù faceva i miracoli. Gesù ha fatto le guarigioni. Non dicono questo gli apostoli. Gli apostoli, una cosa che dicono, che quel Gesù è morto ed è risolto. Quel Gesù nelle catechesi di Pietro, negli atti degli apostoli, stiamo ascoltando, quel Gesù che voi avete crocifisso, il Padre l'ha risuscitato. E di questo noi siamo testimoni. Questo dicono. Il Vangelo è questo. Poi con il tempo all'annuncio, che si chiama Kerigma, all'annuncio centrale il Kerigma, poi hanno anche ammesso e aggiunto i Vangeli dell'infanzia, i miracoli che ha compiuto, gli altri atti della predicazione. Quindi noi non ci arriviamo a spaventare se il miracolo non avviene. Come noi lo vor... Si ripeto, come noi lo immaginiamo. Perché anche qui, la fede, se tu sai leggere, dicemmo la volta scorsa, il problema è che noi... La familiarità non la teniamo con la parola di Dio, con il testo sacro. Non teniamo... Perché se io non ho familiarità con Don Ernesto, se Ernesto fa un gesto, fa una situazione di Dio, ma che che Ernesto ti ha fatto? Se invece ho comunione e familiarità con lui, certe espressioni, io capisco lui che questo vuole dire con quelle espressioni, ma se ho familiarità. Molte volte è vero, il Vangelo, la vita di Cristo, ci sembra così lontana, proprio perché ci manca questa familiarità. Allora, se io, dicemmo la volta scorsa, ricordate, se so leggere con intelligenza, e dicemmo intelligenza, non perché sono intelligente, quindi... Se so leggere in profondità il testo, in profondità, e per leggere il testo in profondità, c'è bisogno di tempo. Scusate, ma mi pare che i nostri ragazzi, o anche voi, quando eravate più giovani, quando si stava con la ragazza o col ragazzo, e i genitori dicono, mi raccomando, in nove e mezzo sta a casa. A me pare che l'orologio non lo vedevamo mai. Chissà perché si tornava a casa sempre in ritardo. Perché stavi con la persona che amavi e volevi stare con la persona amata. E quante volte, quando noi viviamo esperienze particolari, mamma mia, ci è passato il tempo. Riusciamo a dire la stessa cosa anche quando prendiamo in mano l'Evangelo. Stranamente, fateci caso, quando ci sono delle, anche proposte formative, vorrei tanto venire, però non ho tempo. Quanto mi piacerebbe essere presente, ma non ho tempo. E qualcuno, anche col sorrisetto, è beata a voi, beata a te che tieni tempo. Quello è rimandare delle decisioni. Non è tanto il fatto di non venire a una catechesi, è relativo questo, capite? è rimandare delle decisioni che sono fondamentali per la tua vita. Perché lì non è che non viene la catechesi, tu stai rimandando qualche altra cosa, stai rimandando, stai rimandando l'incontro con Lui che è decisivo per la tua vita. Perché guardate, a destra e a sinistra ci stanno dicendo che affinché la vita abbia senso, la vita possa essere piena, è fatta da che cose? Da quello che tu riesci ad accumulare, da quello che tu riesci a fare, da quello che tu riesci a possedere, no, questo ci stanno mettendo dentro, ci stanno, tanto è vero che Papa Francesco ha dovuto parlare della società dello scarto, perché chi non produce è uno scarto e gli anziani chiaramente non possono produrre solo uno scarto, quindi bisogna essere eliminati. E tutta quella realtà che sembra non producente, che sembra inutile, non utile, questa società non ha posto. E tra queste cose non utili è proprio la preghiera che è inutile. Anche l'amore stesso rientra nelle categorie delle cose inutili. Perché, scusatemi, due persone che si amano, che cosa portano di utilità? Tu devi mettere, che ti metta a costruire, ti metta a lavorare con i mattoni a costruire una casa, quello sì che è utile. Due persone che si amano, o è che cosa porta di utile? E va in chiesa, così va bene, può essere, per quanto nobile, questo fatto che state in chiesa e pregate, ma che cosa porta di utile? è che cosa porta di utile? E però, intanto, se noi non ripartiamo da lì, dal fondamento, ricordate quando parliamo dell'Equarestia, parliamo del fondamento, e il fondamento è lì, se non perdo tempo, perché il tempo va perso, perché tu quando stai con chi ami, perdi tempo, ma nel senso, un tempo perso, non che potevi fare altro, perché l'altro che farai, non sarà forse una cosa di più, in più quantitativamente parlando, ma sarà qualificativo, e sarà qualificativo quello che tu farei dopo, ti qualificherà. Allora capite noi dove stiamo? Sulla quantità o sulla qualità? Cioè, l'ideale sarebbe quello e quello. Ma la qualità non può essere a discapito della quantità. Ma anche perché, guardate, con l'esperienza che non l'abbiamo fatta ancora noi di persona, però, forse con realtà vicina a noi, arriverà sorella morte? Esatto. E quindi ci renderemo conto che questa realtà, questa qua fuori, questo vortice nel quale noi siamo inseriti, andrà avanti anche senza di noi. E noi pensiamo che senza di noi non andrà avanti, la mia famiglia non andrà avanti senza di me, la parrocchia non andrà avanti senza di me, il gruppo senza di me non andrà avanti, e io... Ricordate quando morì Giovanni Paolo II, sembrava che la chiesa la doveva finire. Mamma mia, ma che porti Giovanni Paolo II, e ora come si fa? Poi è arrivato Benedetto, è arrivato Francesco, e arriveranno ancora altri. perché le persone, sì, anche le persone con il loro stile, con il loro modo di fare, sì, lo portano anche, per carità, guai se non fosse anche questo. Però capite, c'è quella realtà che è profonda, che va di là di Maurizio, di Ernesto, di Giuseppe, di Angelo. ma questa è fede. Non è un ragionamento fatto a tavolino. Ragionamento a tavolino, capite? Putin vuole questa zona qui, Zelensky no, questa altra zona qui. Allora capite la pace su che cosa si regge? sulla zona tua o la zona mia. E allora cede un poco di qua, e cede un poco di qua, e va bene, cediamo. Però poi, tra un anno, ma io voglio un altro metro di qua, ne voglio, e quindi si è avuto da capo un'altra volta. È stato sempre così, e sarà sempre così. Perciò Gesù dice, e lo ascoltiamo sempre a ogni messa, la pace che io vi do non è quella che vede il mondo. Ecco perché i martiri poi hanno dato anche la vita. Perché vivevano della pace. E allora, il brano che Ernesto ci richiamava all'inizio, degli Atti degli Apostoli, alcuni dei discepoli lasciano il luogo del Cenacolo di Gerusalemme. E sapete perché lasciano Gerusalemme? Non perché avevano voglia di lasciare Gerusalemme. Perché Gerusalemme, a Gerusalemme si sta bene. Nel proprio gruppo si sta bene. Nella propria realtà si sta bene. È come quando tu stai a casa, a casa tua stai bene. Lasciano Gerusalemme, perché a Gerusalemme scoppia la persecuzione. Quindi non è che scelgono di andare. In un certo qual modo sono costretti ad andare. A causa delle persecuzioni. E il testo di proprio dell'altura di oggi dice proprio a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano. Stefano non si è fatti i fatti suoi. Stefano inizia a parlare di Gesù. Come gli altri discepoli. E a causa di Stefano tutti quanti pagano le conseguenze. E quindi scappano. Vanno via. Però vedete, mentre scappano e vanno via, non è che semplicemente vanno in un'altra regione, in un altro paese, in un'altra realtà per inchiudersi in altre case. Perché oramai lo spirito era sceso e le porte le aveva spalancate. Questo permetterà agli altri di poter andare altrove e di annunciare. L'annuncio nasce a seguito di persecuzioni. L'annuncio non nasce a seguito di comodità. Sapete, una volta un vescovo raccontava, lui diceva, chissà perché, dove andava Gesù? Lo prendevano in giro, alla fine erano messi in cruce. E lui diceva, dove vado io, vescovo? Mi fanno sedere e mi offrono il tè e i biscotti. Allora, nel mio annuncio c'è qualcosa che non va, perché se Gesù annunciava e l'hanno messa in cruce. Se io annuncio, mi danno il tè e i biscotti, vuol dire che il mio annuncio è il mio annuncio. E noi, gli annunci. L'abbiamo fatto così, accarezzando. Vabbè, non ti preoccupare, vuoi essere mio discepolo? Prendi la cruce e seguimi. Eh, però tu capisci, però se tu poi annunci questo, poi chi viene più in chiesa? San Paolo dice, io vi ho trasmesso quello che anzitutto anch'io a mia volta ho ricevuto. San Paolo non inventa. Io vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Che Cristo Gesù morì per i nostri peccati secondo le scritture ed è risorto il tettogiorno secondo le scritture. Questo, dice San Paolo, io vi annuncio, perché questo io ho ricevuto. E allora, quando io dicevo è questa la professione della nostra fede, io devo chiedermi, questa professione della mia fede che ricaduta ha nella mia quotidianità? Che ricaduta ha adesso che stiamo qui in questa sala? Perché se questo è il centro della mia vita, della mia fede, che ricaduta ha quando sto al lavoro? Quando domani mattina ando a fare la spesa, dire che Cristo è morto e risorto, che ricaduta ha? Cioè concretamente lo stile della mia vita cambia. Che non significa sono santo. Però capite, se il pezzo di pane è tre euro e ha commesso mi dà cinque euro sbagliando, ah boh, non se ne è accorta. Eh no, qui è la ricaduta pasquale. Perché se poi lei si piglia cinque euro in più, io lo faccio notare, guarda che mi devi dare cinque euro di resto. Però se lei mi dà in più si sbaglia e poi mi sto zitto. però poi dico credo che Cristo è morto e risorto per i miei peccati. Chiaramente capite, sto facendo un esempio abbastanza semplice e banale, però poi ognuno applica la sua vita. le affermazioni che facciamo. Come qualche altra volta pure l'ho detto, fa molte volte difficoltà noi sacerdoti in confessione quando qualcuno dice così io con quella persona non ci voglio parlare. Però io credo nel Signore, eh, faccio tutto, faccio tutto, però con quella persona non ci voglio parlare. E come fai a dire credi nel Signore? Quando il Signore ha detto così di amare anche il nemico, di pregare per coloro che ti perseguono. Allora, fin quando tu dici non riesco, non ce la faccio, è un altro discorso, capite? Questo è un altro discorso quando dici non ce la faccio perché l'umanità c'è, la pesantezza l'umanità ci sta. Però quando tu dici non voglio, allora è inutile che dice credo che il Signore risulta dai morti. Perché è la sua resurrezione che mette in me la capacità dell'uomo nuovo. Ora, capite il Vangelo di domenica scorsa quando Gesù ha detto così le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Ma scusatemi, vi è mai capitato che in un momento della vostra vita qualcuno vi ha detto una parola che quella parola ve la siete portate appresso per una giornata intera o forse qualche volta ancora ci ritornate sopra a pensare a quella parola, quella frase che vi ho detto in quel momento e come vi ha illuminato forse il cuore e la mente. E immaginatevi se noi facessimo scendere così le frasi del Vangelo. certe volte si incontrano delle persone che sono così belle ma non mi riferisco a una bellezza estetica a una bellezza fisica sono belle hanno un volto luminoso pensate Materese di Cacutta no, non era bella fisicamente piena di rughe ma non c'era luce in quel volto e tu incontri una persona come quella veramente capisci che c'è qualcosa lei lo racconta dice che una volta incontrò un lebroso e questo lebroso così stava alla fine dei suoi giorni e lui disse alla madre io non so se Dio esiste ma se esiste certamente avrà il tuo volto e noi stiamo lì ancora a cercare il volto di Dio Dio come è fatto ricordate lo dicevamo la volta scorsa chi ha visto mi ha visto il padre è l'azione che è il volto di Dio cioè è il bene e l'amore che configura Dio ogni volta che c'è un'azione buona qualcosa di bello e di buono lì Dio sta apparendo mostrando il suo volto ricordate meditammo su questo brano quando il giovane maestro buono cosa devo fare per avere la vita eterna e Gesù gli risponde perché mi chiami buono uno solo è buono Dio e tu vuoi essere figlio di Dio fai il bene e sei figlio di Dio e tutte le volte che fai il bene sempre in qualsiasi momento a chiunque in chiesa fuori dalla chiesa dovunque non è che qualcuno ha l'esclusiva del bene ricordate i due discepoli maestro abbiamo visto un tale che scacciava i demoni glielo abbiamo impedito e perché glielo avete impedito se scaccia il male perché glielo impedite solo perché non viene in chiesa solo perché non fa parte del gruppo solo perché non sta in questa realtà qui solo perché non è il gruppo degli apostoli ma magari tutti quanti scacciassero i demoni come sarebbe il mondo più bello e invece no se appartiene al mio gruppo si si appartiene alla mia parrocchia si si appartiene alla chiesa si e poi ci dobbiamo vergognare scusate mi devo vergognare quando poi vedo qualcuno che in chiesa non va e fa molto più bene di me e io provo vergogna quando persone vengono a confessarsi una mamma o un papà che porta una famiglia avanti con problemi e difficoltà e io mi dico io che faccio? allora capite è importante che questo questo è le provocazioni provocazioni che noi se veramente prendiamo in mano la scrittura queste ci danno ci offrono che però vedete sono provocazioni ci sono chiamate perché il Vangelo la scrittura a questa finalità qui è una continua chiamata da parte del Signore il Signore continuamente ci chiama ci chiama proprio a questa realtà di vita vita piena vita in abbondanza la colletta della messa di oggi qualche volta già ve l'ho detto come noi dovremmo anche qui gustare quando il sacerdote dice quelle preghiere perché le dice a nome nostro non le dice per se stesso dice preghiamo e quella di oggi diceva così Dio Onnipotente che ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo figlio concedi a noi a noi quindi non a me prete ma a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo figlio è una grazia poter celebrare la Pasqua non è una cosa scontata è una grazia siamo stati graziati nel celebrare la Pasqua e la grazia è questa la grazia è la Pasqua la grazia è l'amore di Dio che rivesta su di noi perché mentre noi eravamo ancora peccatori lui ci ha amati mentre eravamo peccatori non quando poi non abbiamo più commesso il peccato Dio ci ha scelti nei confronti di ha scelto il popolo di Israele quando era il più piccolo tra tutte le nazioni e a San Paolo dirà è nella tua debolezza che si manifesta la mia forza noi invece vogliamo prima di tutto apparire già forti ma se io già sono forte dove sta con la potenza di Dio? e quando San Paolo ricordate parla di quella spina che ha nel fianco e lui dice ho pregato il Signore affinché mi liberasse da questa spina e il Signore gli dirà ti basta la spina non gliela toglie però dice ti basta la mia grazia noi diciamo la verità vorremmo che la spina ci venisse tolta e poi se la grazia non le dà non farete però toglimi la spina c'è un romanzo bellissimo ve lo consiglio di leggere un po' datato veramente il diario di un curato di campagna dove alla fine c'è questa parola qui proprio l'ultima parola che importa dice lui tutte grazie vedete anche noi questa parola grazia dice poco sapete perché perché noi confrontiamo la grazia con le grazie con i miracoli con i piaceri per noi le grazie chiediamo le grazie facciamo la novena alla Madonna e chiediamo le grazie ecco perché la parola grazia non ci dice niente però provate a pensare quando una persona ci fa un regalo e noi stiamo lì senza parole grazie ma perché mi hai fatto questo e quando tu più sai di non meritarlo e quando più il regale grande sai di non meritarlo il tuo grazie lì è vero e resti senza parole quanta presunzione l'abbiamo noi davanti alla grazia del Signore e noi abbiamo detto ci dai la grazia di celebrare il mistero della resurrezione del tuo figlio attenzione pure a questa parola qui è mistero la resurrezione del figlio non è un miracolo è un mistero concedi a noi ecco la richiesta di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati quindi questa grazia ci dà la salvezza la salvezza è questa essere resti partecipi dell'amore di Dio ora abbiamo chiesto donaci la gioia di testimoniare con la vita l'amore che tu riversi su di noi e adesso capite uscendo dalla chiesa la domanda me la devo fare ecco adesso come poi diventa realtà concrete non più un puro pensiero e il pensiero è questo il dato di fede è questo qui sono salvato mi dà la grazia di celebrare questo mistero della Pasqua la Pasqua mi fa comprendere fino a che punto sono amato ora l'atto pratico la ricaduta nella vita come io posso testimoniare questo invece che faccio me ne vado a casa oppure vado a fare le altre cose come se niente fosse successo è forte questo mi auguro che voi scusate permettetemi l'espressione mi auguro che vi siete un po' schiaffeggiati scusatemi mi auguro che ci sentiamo un po' schiaffeggiati perché io potrei anche stare qui a fare la lezione essere le prime ipocrita il desiderio almeno ci sia desiderio di questo la consapevolezza ma il desiderio e allora il brano che Don Ernesto ci richiamava il fatto che poi c'è questa persecuzione loro vanno lì in queste altre città e iniziano a parlare del Signore è bello perché alla fine dice il testo così ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani il termine cristiano nasce ad Antiochia dove lì i discepoli per la prima volta furono chiamati cristiani lì nasce il termine cristiano verrebbe da chiederci che cosa hanno visto ad Antiochia quando hanno visto questi discepoli perché hanno detto ah quelli sono cristiani sarebbe bello se qualcuno entrasse qui o passasse qua fuori e direbbero quelli sono cristiani sarebbe bello quando usciamo dalla chiesa quelli sono cristiani sarebbe bello io lo vorrei sinceramente che lo dicessero di me è un prete è un buon prete ma non perché mi porti il colletto e anche se non dicessero è cristiano è una brava persona fate il bene allora poi c'è quella realtà perché alla fine se ricordate proprio la settimana scorsa parliamo poi dell'evangelizzazione che è proprio questa di questo contagio allora tu vedi questa cosa e dici fammi vedere fammi vedere pure a me e nell'evangelizzazione ascoltiamo che i discepoli prendono e li conducono da Gesù e poi lui sparisce il discepolo poi sparisce perché se evangelizza ma non perché l'altro debba convertirsi io non devo convertire nessuno mio compito non è convertire mio compito è testimoniare non convertire e non devo testimoniare con l'interesse sotto sotto che parlo poi a Davani e se no mi fai perdere di me è come se poi se porto qualcuno in parrocchia poi il parroco mi dà il gettone mi dà qualcosa così abbiamo aumentato il numero dei battezzati non è che insisto molto questo è non c'è nient'altro non c'è nient'altro al di fuori della testimonianza ovviamente c'è solo accademia poi altrimenti allora sì sediamoci scriviamo libri di teologia scriviamo libri di morale scriviamo sono racconti edificanti facciamo un club facciamo una biblioteca leggiamo queste cose ah che belle cose e finirebbe lì noi non vogliamo che finisca qui non deve finire qui c'è un canto che fanno i bambini la luia delle lampadine dove in un certo modo dire così la nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà una volta io ritrovavo proprio questa cosa così c'erano i genitori e gli dissi ma ti capite che dicono i bambini per i bambini è semplice la festa non finirà ma per voi genitori pensate che una festa non finisca mai non è semplice allora fa capire il significato però della festa facciamolo capire cos'è la festa diceva San Basilio se non erro la nostra festa è Cristo ecco perché poi la nostra festa non finisce mai la nostra festa è Cristo ma capite se quello che sto cercando di dire è che noi già sappiamo ripeto è vero che a Cristo gli hanno fatto la festa questo è vero sì capite però vi ricordate quando lui parlerà del figlio prodigo dice che poi il padre prepara il vidello grasso lo fa ammazzare venite mangiamo e facciamo festa dice la lettera agli ebrei capitolo 9 che senza spargimento di sangue non c'è redenzione e c'è sempre qualcosa capite la tua partecipazione è inevitabile che allora ecco l'ascolto che fai con tutta la tua persona ti porta poi a che cosa a capire che forse c'è qualcosa che allora devi un poco smussare devi un poco livellare devi rivedere sono realtà le quali ci si educa forse questo vedete non so se avete notato il nostro vescovo da quando lui è arrivato in diocesi nei programmi pastorali che ci ha fatto fare ogni anno generalmente non è mai mancato questo tema educarci educarci alla fede educarci alla speranza educarci alla carità i primi tre anni proprio sulle tre virgite locali educare lo sapete è portare fuori di qualcosa che già sta dentro però noi fateci caso anche noi non abbiamo più educato le notizie ogni giorno in televisione le ascoltiamo allora anche alla fede o all'ascolto dobbiamo educarci generalmente gli adulti dicono no ma questo mio figlio non mi ascolta mai ma abbiamo insegnato noi ai nostri ragazzi come si ascolta no sapete perché? perché noi grandi non sappiamo ascoltare perché noi vogliamo che i nostri figli ci ascoltino ma noi ascoltiamo i nostri figli un marito ascolta la moglie la moglie ascolta il marito l'ascolto deve essere reciproco io non posso pretendere che l'altro tenga la palla magica e quindi capisca io che cosa sto vivendo che cosa sto pensando e ripeto Gesù stesso l'ha detto di che cosa state parlando lungo la via quali sono questi discorsi che state facendo e tanto è vero che loro glielo dico ma come sono tu sei così forestiero vedete la presunzione ma come non lo sai no non lo so però se tu lo dici nel dirlo tu lo stai tematizzando nel dirlo nel dire quello che tu stai vivendo stai cercando di dirlo prima di dirlo a me lo stai dicendo a te e mentre lo dici ti rendi conto se effettivamente è questa realtà così grande così forte o possa essere o possa essere anche la bea nera niente ho preso la svista e dicevano l'altro scorso loro quanto è importante l'amicizia quanto è importante il camminare insieme capite come il tema che ci è stato dato anche quello come chiesto il sinodo il camminare insieme inizia a prendere sempre più forma e allora un esempio anche qui banale permettetemelo se io mi siedo sempre a fianco con Don Ernesto e non mi siedo a fianco con Don Antonio allora io con Don Antonio non camminerò mai insieme allora sarebbe purtroppo noi in chiesa pure così non so se succede pure qui creiamo il posto in chiesa e se arriva qualcuno si mette prima di me arriva la signora appunto la mente e si metta così allora che fai questione allora ti alzi e ti sposti perché ti è stato strumentato questo posto da questo giustamente capite allora se già inizio al prossimo incontro alla prossima messa non lo metti vicino Ernesto lo metti vicino a Don Antonio di qua e già dice ma che cosa è cambiato tanto credetemi è cambiato tanto io nella chiesa ho fatto sempre questo e mi fai una cosa qual è il problema è un servizio o non è un servizio è il riconoscimento ma l'ho fatto sempre io ma forse quello è il problema che l'hai fatto sempre tu di che non è un servizio che è un servizio che non è un servizio ma che è un servizio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.